ciao ragazzi sono roger argentina e oggi siamo ritornati su rogersurriva pro vedete qui allora se vi chiedete cosa ho fatto qua potete vedere che è più ampio se non sono niente gli altri non so più parlare potete metterlo sul video il link in descrizione nel mio secondo canale ho fatto un po' di costruzione qua ho fatto anche queste scale qua vedete queste qua sono una specie di base per la casa mia ok io devo iniziare a costruire a meno di cercare a fare un progetto della casa allora vediamo se ho pietra allora io direi qua la porta vero? allora sinceramente non so come fare farei tipo qua così che venga in qua che venga in qua qua chiuda e faccia qua che c'è quello qua non male perchè c'è un sento ragno what the fuck che cazzo è quello adesso sono cose che non ho mai visto perchè non è che ho detto il primo discorso che non so bene ancora che cosa c'è dentro dentro bisogna anche più parlare allora proviamo qua lo facciamo fino a qua qua lo facciamo fino a qua ok questi tipo sono gli angoli che sono in casa nostra qua lo facciamo fino io direi fino a qua 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 e qui si qua chiudo qua così almeno credo di fare il giusto per tanto iniziamo costruire un colo perché con il tagliare è che ho e il capo che ho fatto così un capo che ho fatto così ah 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 un capito è questo ho fallato il capo che ho fatto così è che non troppo è che non troppo queste sono più altre possono queste sono grande un piccolo così diciamo vedi qua avevo l'intenzione di fare tipo così sì così vedi che dopo qua sarà una specie di porta ok andiamo a prendere un po' di materiale allora vediamo questo ci possiamo fare un letto già no? ci possiamo fare un letto questo lo vediamo qua lasciamo la lana lasciamo questo il legno ci lo portiamo per sicurezza non ci portiamo tutto questo lo lasciamo lo lasciamo piccola spada piccola questo lo lasciamo non ci lo portiamo c'è dove lo conosce non ci posso andare quindi metti la cucina è che questo qua sono posso sentire il video del risidato ovvio non so perché c'è tanto lagga bene ecco se guarda ti farò una piccola pausa perché l'ha finito di qua qua ti abri la mente di fare una cosa bellissima fare una specie di cosa, di ponte ecco qua ti farò l'acqua ecco qua ti farò l'acqua ecco qua ti farò l'acqua ecco qua l'acqua ecco qua c'è una specie di piscina un po' giù c'è tutta l'acqua e andrà di qua un spazio del fiume che ci guarda il castello andrà di là qua e allora qua non ho cascata che sarà la piscina è bello, bello dai ho preso un po' di te per finire la costruzione allora, allora non lo so più di masi, qua e poi te lascio in questo episodio vedete che non faccio niente perché non con la fine di costruire la casa fino a la costruire, beh, finire la costruire il video che farò ora che nel secondo mio canale, allora iscrivete anche nel secondo mio canale che li caricherò il video che mi si va a fare tipo cose che non registrò tipo rompo qua o che ne so, vado a prendere materiale e tutto ancora avventando il prossimo episodio se dite voi cosa sotto nei commenti di questo video dite voi cosa che faccia perché dite voi cosa che faccia ma quanto è lungo è costato bro oh man dite voi cosa che faccia il prossimo episodio se non mi deteniente deve andrò a uspidolarlo un po' o se no a finire di costruire o che spero che ci vedete il video mettere un like se ne ha piaciuto se ne ha piaciuto se ne ha piaciuto mettere un like iscrivete sul sito iscrivete e ci vediamo per la prossima mi saluto con il clipe da qui in punto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti